Musica Basta guardare via Roma oggi, vabbè complice il sole rispetto all'anno scorso che era tutto un altro clima anche la gente è invogliata a passeggiare e a guardare però è una splendida occasione per continuare a mettere confronto il pubblico con gli attori poi della comunicazione che sono le librerie e gli editori l'unico punto che posso permettervi di fare in questa bellissima occasione per cui ringraziamo la città che ci ha dato questa opportunità è che veramente lo spazio è veramente proprio tiranno per noi e quindi se fosse possibile prolungare di un pochino i banchi sarebbe una grande cosa e noi siamo qua anche come comitato editori del Piemonte e siamo una ventina di case editrici tutte presenti e stiamo cercando di continuare a portare al pubblico i nostri libri e i nostri autori ma infatti se posso portici è anche occasione per conoscere realtà editoriali del territorio e che producono sul territorio e parlano del territorio e quindi è un'occasione da non perdere e quindi è un'occasione da non perdere